Il preziosissimo sangue nella circoncisione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sparse le prime gocce del suo sangue otto giorni dopo la sua nascita, quando secondo la legge degli ebrei fu circonciso e gli fu imposto il nome di Gesù, che significa Salvatore. Poche gocce, ma quanto eloquenti e preziose. Gesù è impaziente di versare il suo sangue per noi e così si è soggetta al rito imposto da Dio ai figli di Abramo come segno di alleanza. Quel primo sangue versato ci dice che Gesù ha voluto unirsi strettamente a noi e stringere con noi un patto di amore per la nostra eterna salvezza. Quelle prime gocce di sangue furono sparse in obbedienza a quel rito che era sacro per tutti gli ebrei. E come insegna la Bibbia, il primo peccato compiuto dall'uomo nel paradiso terrestre fu un peccato di disobbedienza. Le prime gocce di sangue furono sparse da Gesù in obbedienza alla legge di Dio per riparare la colpa di ribellione compiuta dai nostri progenitori. ammirabile riparazione e quale lezione per noi che siamo spesso ribelli a Dio. Impariamo ad apprezzare l'obbedienza al Padre come condizione indispensabile perché i meriti di Gesù siano applicati alle nostre anime. Santa Maria Maddalena dei Pazzi in un'estasi vide presentarsi davanti a Dio i santi protettori della città di Firenze con molti altri santi. Ognuno di questi supplicò il Signore di concedere ai fiorentini il perdono delle loro colpe, ma Dio sembrava non ascoltare le loro preghiere. Con lo stesso rifiuto il Signore rispose alla supplica degli angeli custodi. Vide allora presentarsi a Dio le anime buone che erano sulla terra e le vide unire alle loro preghiere l'offerta del preziosissimo sangue versato da Gesù per gli uomini. Contemporaneamente sentire e accheggiare le parole di Cristo. Chiedete e vi sarà dato. Solo allora il Padre si mosse a pietà e concesse quanto le preghiere del cielo e della terra da sole non avrebbero potuto ottenere. preghiamo insieme oggi come fioretto la preghiera per riparare le bestemmie, per riparare i nostri peccati. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per la nostra unzione battesimale, ci lavi, ci purifichi, ci immerga nel suo sangue preziosissimo, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi saluto, vi abbraccio e vi aspetto domani per il prossimo giorno della novena. Grazie. 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 Grazie.